buonasera è un grande piacere per me essere qui con voi anche se non siamo proprio vicini ma non importa va bene lo stesso e soprattutto è un grande onore essere qui con voi per parlarvi di giorgio bassani ne lasciate che ringrazio per un istante il circolo dei lettori per questa opportunità grandissima per questo onore abbiamo un po di tempo a disposizione non è tantissimo ma vedrete ce lo faremo bastare sarà più che sufficiente e allora comincio comincio partendo un po da lontano e potrebbe sembrarvi strano forse anche un po curioso che io parta da un punto così lontano ma confido nel fatto che voi capiate molto presto fra pochissimi minuti che in realtà il punto da cui sto per partire non è poi così lontano e parto da un film un film del 1987 scritto e diretto da lui mal vincitore del leone d'oro alla quarantaquattresima mostra del cinema di venezia un film che si intitola arrivederci ragazzi au revoir les enfants lui mal scrisse la sceneggiatura di arrivederci ragazzi in poco più di 14 giorni partendo da una storia vera accaduta quando lui aveva 11 anni era il 1944 ed era da poco entrato nel convitto petit collège ad avant presso fontainebleau arrivederci ragazzi alla storia dell'amicizia tra julien quentin che è un ricco ragazzo parigino un ricco borghese di parigi è un ragazzo più taciturno suo coetaneo che si chiama jean bonnet jean bonnet è un ragazzo silenzioso enigmatico misterioso e si è misterioso perché nasconde un segreto jean bonnet non si chiama jean bonnet si chiama jean kippelstein ed è ebreo e ha cercato rifugio presso il collegio dei carmelitani scalzi a fontainebleau luogo in cui arrivederci ragazzi è ambientato nel tentativo di sfuggire alle persecuzioni contro gli ebrei joseph un ragazzo povero e zoppo che lavora nel collegio come inserviente viene sorpreso a rubare e dunque viene licenziato e per rabbia nel desiderio di vendicarsi denuncia alla gestapo la presenza di tre ragazzi ebrei che si sono nascosti che hanno cercato rifugio nel collegio i tre ragazzi vengono arrestati e con loro viene arrestato il direttore del collegio e i quattro partiranno per un viaggio senza ritorno che li porterà ad auschwitz che li porterà a mauthausen jean bonnet era il vero nome di copertura di un ragazzo di un ragazzo ebreo che si era nascosto nel convitto petit collège ad avon il ragazzo si chiamava hans michel era di francoforte ed era scappato da francoforte con la madre e con la sorella si era nascosto a parigi era stato poi arrestato era riuscito a scappare era stato arrestato nuovamente e nuovamente era scappato e alla fine aveva cercato un rifugio presso il convitto petit collège fino al gennaio del 1944 quando era stato arrestato dalla gestapo deportato ad auschwitz dove era morto il film arrivederci ragazzi si conclude con una scena terribile straziante commovente il momento dell'arresto il momento in cui i tre ragazzini e il direttore del collegio vengono portati via e i compagni gli altri studenti che si sono raccolti nel cortile salutano i tre ragazzi e il direttore dicendo loro arrivederci e c'è un istante pochi pochi secondi prima che il film si concluda che la storia finisca in cui il direttore si ferma si volta guarda i suoi ragazzi i suoi studenti e dice loro arrivederci a presto ecco c'è una frase di louis mal che vorrei leggervi e che credo possa darvi conto dello strano percorso che ho intrapreso per arrivare tra pochissimi secondi a giorgio bassani la frase di louis mal è questa solo quando la memoria è filtrata dall'immaginazione solo allora i film arrivano nel profondo dell'anima ecco noi possiamo sostituire alla parola film la parola romanzi la parola racconti più in generale possiamo sostituire alla parola film la parola storie e provo a rileggervela così solo quando la memoria è filtrata dall'immaginazione solo allora le storie arrivano nel profondo dell'anima ecco io credo che a giorgio bassani quest'uomo nato nel 1916 da una famiglia borghese benestante e morto nel 2000 questo poeta romanziere autore di racconti questo redattore direttore editoriale tra i fondatori e poi presidente d'italia nostra vice direttore della rai questo intellettuale italiano e permettetemi di dire che nel caso di bassani la parola intellettuale è appropriata e non sempre lo è ecco io credo che questa frase pronunciata da louis mal giorgio bassani l'avrebbe capita credo che avrebbe anuito profondamente in silenzio ascoltandola io non so se giorgio bassani abbia visto a rivederci ragazzi è possibile ma voglio immaginare che l'abbia fatto e lo voglio immaginare seduto in una sala cinematografica mentre arrivato alla fine del film piange piange davanti a quella rivederci i ragazzi piange ripensando alla sua vita la sua giovinezza soprattutto e piange ripensando a una delle sue storie probabilmente la storia più bella per me la storia più bella probabilmente il suo capolavoro il giardino dei finzi contini pubblicato nel 1962 per cui ricordatevi questa espressione a rivederci ragazzi perché vedrete ci tornerà utile e probabilmente capirete alla fine perché per me questa espressione questa frase sia così profondamente legata alla vita di bassani e al suo lavoro ma c'è un altro elemento in rivederci ragazzi che mi sembra importante ed è il collegio stesso o meglio le mura del collegio le mura che circondano il collegio mura che dovrebbero proteggere custodire dovrebbero farlo appunto e che invece possono trasformarsi in una trappola senza via di scampo in una prigione prima della prigione così succede a jambonet ecco è proprio questo a delle mura che vorrei che voi pensaste ripensando a giorgio bassani alle mura che circondano la sua città ferrara la città dell'infanzia la città della giovinezza la città di cui bassani ha scritto sempre pur essendosi trasferito a roma pur vivendo altrove una città che compare da subito nelle sue storie prima con un nome generico per camuffarla un po città di pianura poi con una iniziale puntata f per apparire alla fine compiutamente per quella che è ferrara ecco vorrei che provaste a immaginare le mura che circondano ferrara e all'interno di queste mura nel cuore di ferrara altre mura che circondano un giardino il giardino che sta intorno alla villa in cui vivono i finzi contini questa famiglia che non è mai esistita davvero ma che lo vedrete tra poco è esistita e come in fondo nell'immaginazione di bassani ecco è da queste mura che si affaccia nel giugno del 1929 una giovanissima micol finzi contini è proprio una ragazzina e si affaccia per svegliare il protagonista del romanzo la voce narrante del romanzo colui il quale ci racconta la storia dei finzi contini che sotto quelle mura si è addormentato dopo essersi presentato a scuola aver scoperto di essere stato rimandato in matematica aver inforcato la propria bicicletta piangendo e aver vagato pedalando per ferrara nel tentativo di rimandare il più possibile il momento del ritorno a casa e dunque il momento del confronto con i propri genitori e c'è un piccolo passaggio del giardino dei finzi contini che vorrei leggervi quanti anni sono passati da quel remoto pomeriggio di giugno più di trenta eppure se chiudo gli occhi micol finzi contini sta ancora là affacciata al muro di cinta del suo giardino che mi guarda e mi parla nel 1929 micol era poco più che una bambina una tredicenne magra e bionda con grandi occhi chiari magnetici io un ragazzetto in calzoni corti molto borghese molto vanitoso che un piccolo inconveniente scolastico bastava a gettare nella disperazione più infantile entrambi ci fissavamo al di sopra della sua testa il cielo era azzurro e compatto un caldo cielo già estivo senza la minima nube niente avrebbe potuto mutarlo sembrava e infatti niente l'ha mutato almeno nella memoria ecco per cui tenete a mente l'espressione arrivederci ragazzi e tenete a mente ben salda nella mente la parola memoria ferrara vi dicevo ferrara ferrara che è la città probabilmente più permeata di cultura ebraica la città italiana più permeata di cultura ebraica almeno fino dalla fine del 1400 dopo cioè la cacciata degli ebrei spagnoli che ercole primo d'este accolse a ferrara ferrara che è cresciuta all'ombra degli estensi ed è una città era allora e lo è ancora una città magnifica ricca di cultura di storia di arte di tradizione eppure come ogni città forse anche come le città più grandi ciascuna a modo suo una città di provincia una città rigida una città conformista in cui così ci racconta la figlia di bassani chi era ricco era molto ricco ed era destinato a rimanere tale e chi era povero era povero ed era destinato a rimanere tale una delle città tra gli anni 20 e gli anni 30 più fasciste di italia in cui il rapporto fra fascismo e borghesia era un rapporto strettissimo profondissimo in cui così ci racconta sempre la figlia di bassani molte famiglie ebree erano borghesi erano molto ricche ed erano molto fasciste un aspetto che bassani condannò sempre aspramente fino a quando nel 1941 si unì a un gruppo antifascista e venne poi arrestato pensate che il podestà di ferrara era fascista si chiamava renzo ravenna era fascista ed era ebreo e si dimise dal proprio incarico poco prima della promulgazione delle leggi razziali nel 1938 ecco ferrara una città molto ricca una città con una grandissima storia eppure piccola in fondo provinciale in fondo certo chiusa rigida circondata da quelle mura costruite pensate per proteggerla ma mura che come sempre non solo proteggono ma possono imprigionare possono rinchiudere senza che chi vi abita all'interno neppure se ne accorga le mura del collegio ricordate quindi arrivederci ragazzi le mura la memoria e ferrara pensate al romanzo di ferrara l'opera di bassani che racchiude ordina tutti i suoi romanzi tutti i suoi racconti pubblicati fino al 1972 ecco il romanzo di ferrara si compone di sei sezioni una delle quali è rappresentata dal giardino dei finzi continui ovviamente un'altra per esempio dagli occhiali d'oro un altro grande capolavoro un altro libro meraviglioso la prima sezione è rappresentata dalle cinque storie ferraresi un libro pubblicato nel 1956 da bassani vincitore del premio strega ecco quando bassani riordina il proprio lavoro rinomina reintitola le cinque storie ferraresi sapete come le intitola dentro le mura e questo il nome della prima sezione del romanzo di ferrara il romanzo di ferrara è l'opera di tutta una vita con tutti i suoi personaggi micol lida mantovani il dottor fadigati tutti i personaggi ciascuno diverso a modo suo ciascuno alieno a modo suo rispetto all'ambiente che lo circonda e allora il romanzo di ferrara è il romanzo è la storia di una vita e ha due protagonisti il primo è ferrara ferrara questa città così ricca ma così piccola in fondo così provinciale dall'avvento del fascismo quindi dagli anni venti fino agli anni cinquanta e poi il secondo protagonista lo sguardo di bassani lo sguardo che rievoca ferrara che la riporta in vita in tutta la sua complessità e poi unito a questo sguardo il lavoro della memoria il lavoro della memoria contro la dissipazione contro la nebbia della dimenticanza ecco ferrara è la grande protagonista delle storie di bassani e quella protagonista quel personaggio che le lega tutte le une alle altre e ferrara è il grande fantasma di bassani ferrara è la grande ossessione di bassani ferrara è il luogo narrativo il luogo dell'immaginazione di bassani e mi piace pensare quando penso a ferrara mi piace pensare alla macondo di gabriel garcia marquez mi piace pensare alla contea dal nome impronunciabile a cui ha dato vita a falkner mi piace pensare ed è più recente alla holt di kentaruf oppure alla crosby di elisabeth straut ferrara è una città reale certo non è come macondo è una città concreta con la sua topografia le sue strade le sue piazze i suoi viali ma è anche e soprattutto una metafora un simbolo e che cosa simboleggia la condizione di tutti noi la nostra condizione esistenziale e il rapporto complesso che tutti noi abbiamo con le nostre radici così come un simbolo è in fondo il giardino che racchiude la villa dei finzi contini che la circonde che a sua volta è circondato da mura quel giardino in cui si continua a giocare a tennis in quell'autunno ancora tiepido mentre la storia sta avanzando mentre il rumore della storia il rumore sordo della storia si fa più vicino bassani disse una cosa che ora vi leggo anzi ne disse due una più piccola e una un po più lunga la prima è questa io non scrivo per i ferraresi lo disse rivolto a tutti coloro i quali lo accusavano di essersi dedicato e di continuare a dedicarsi a piccole storie di provincia piccole cronache locali che non sarebbero interessate a nessun altro e poi disse questo ogni artista vero ogni poeta non può non fare sempre i conti con le proprie origini con le proprie budella la città del castello di kafka non è praga d'accordo ma d'altronde cosa potrebbe mai essere se non praga ecco raccontare ferrara per bassani significa raccontare se stesso raccontare ferrara significa raccontare se stessi perché serve osservare scandagliare scrutare un microcosmo per poter intravedere il macrocosmo che in quel piccolo universo si rispecchia serve la vita di un uomo o di una donna per poter vedere attraverso quell'uomo attraverso quella donna la vita di ciascuno di noi la nostra umana condizione il mistero della nostra esistenza per poter andare come diceva lui mal nel profondo dell'anima e dunque non la storia non direttamente la storia ma le storie specifiche particolari concrete e attraverso le storie la storia e qui mi viene in mente anzi mi vengono in mente due altri grandi scrittori il primo è joseph conrad il quale un giorno disse compito di ogni narratore è rendere il maggior grado di giustizia possibile all'universo visibile perché soltanto osservando l'universo visibile che noi possiamo intravedere l'universo invisibile e poi un altro grande scrittore nostro italiano piemontese beppe fenoglio che ha scritto il romanzo più bello sulla resistenza in cui però si parla di una questione privata la vita di un uomo di un giovane uomo Milton in cerca della verità ecco giorgio bassani non è stato uno scrittore provinciale se con provinciale vogliamo intendere locale giorgio bassani è stato uno dei più grandi cantori dell'epopea umana della nostra condizione umana vissuta dentro le mura per tutti in qualche modo mura che proteggono ma che imprigionano vissuta dentro le mura in direzione del buio verso il quale tutti ci stiamo muovendo anche se facciamo finta che non sia così arrivederci ragazzi le mura la memoria ferrara la memoria appunto la memoria il passato la nostalgia vi ricordate ve lo rileggo quel pezzettino quella piccola frase se chiudo gli occhi micol fin si continui è ancora appoggiata la questo presente che rende tutto eterno che blocca micol nel tempo che la ferma nel tempo che la porta fino a noi ecco anche la memoria così come le mura è però ambigua perché da un lato la memoria salva mantiene in vita custodisce preserva e anche qui vi chiedo ricordate niente l'ha mutato quel cielo almeno nella memoria ma nello stesso tempo la memoria è quello strumento che ci consente di fare i conti con lucidità con il nostro passato che ci consente di capire chi eravamo e che cosa è accaduto che cosa ci è accaduto ferrara dunque la memoria entrambe ambigue e c'è un altro elemento ambiguo è un elemento più piccolo di ferrara che se ne sta nel cuore di ferrara circondato da altre mura ed è il giardino e perché vi dico che è un elemento ambiguo perché il giardino è molte cose diverse da un lato il giardino della villa dei finzi contini è ciò che custodisce ciò che protegge ciò che salva è una sorta di eden dall'altro lato è ciò che isola che separa che distanzia e mi vengono in mente qui altri mura che tutti noi ricordiamo che tutti noi in qualche modo abbiamo visto le mura che circondano il campo di sterminio di auschwitz per esempio oppure le mura che circondano un campo di concentramento come da how in cui mio nonno è morto e che io ben ricordo mura che io ho toccato di cui conservo la sensazione tattile quella sensazione così fredda il giardino è anche una città nella città come lo erano i ghetti ebraici il giardino è il luogo dell'illusione in cui si pensa che la storia non debba mai arrivare eppure la storia sta già marciando per raggiungerti e poi il giardino è il tempo della giovinezza perduta e anche qui vorrei leggervi un piccolo pezzetto molto breve che fa così era già l'ora che volge al disio declamò una voce ironica e sommessa vicinissima mi girai stupito era il professore ermanno appunto che tutto contento di avermi fatto trasalire sorrideva bonario mi prese con delicatezza per un braccio quindi molto lentamente tenendoci sempre ben discosti dalla rete metallica di recinzione e ogni tanto fermandoci cominciamo a camminare attorno al campo di tennis compimmo un giro quasi completo per poi alla fine tornare sui nostri passi avanti e indietro nel buio che via via cresceva ripetemmo la manovra varie volte in ogni caso aggiunse tra qualche giorno comincerà a piovere inutile illudersi meglio rimandare ogni eventuale iniziativa all'anno prossimo non pare anche a te ecco il giardino è anche questo è la giovinezza perduta mentre si marcia verso il buio mentre un'onda rappresentata nel giardino dei finzi continui dall'inverno dal freddo dalla nebbia dalla neve un'onda si sta alzando e sta per travolgere il mondo e dentro al giardino che se ne sta dentro Ferrara un campo da tennis e qui ho l'impressione di essere arrivata al cuore di questo organismo di questa creatura narrativa che è Ferrara la Macondo la Holt la Crosby di Giorgio Bassani un campo da tennis vi dicevo tennis così importante per Ferrara per Bassani perdonatemi che giocava a tennis e così ci racconta la figlia si imbufaliva ogni volta che perdeva una partita la parola tennis compare 24 volte nel romanzo e sono tante e anche il tennis è ambiguo come tutto nelle storie perché è una consolazione è una distrazione ovviamente in tempi così duri perché non concedersela ma nello stesso tempo è anche il simbolo di un rifiuto di una forma di cecità di una forma di cecità che spinge alla conservazione di un'illusione che però sta per essere spazzata via è la giovinezza perduta ve lo dicevo ed è il presente che subito diventa passato che subito deve essere rimpianto ma così scrive Bassani e anche qui vi leggo questa piccola frase giocando a tennis si potrà godere di quanto di bello restava della stagione a proposito del giardino dei finzi continui e a proposito di micol che è il cuore del cuore del cuore dell'opera di Bassani un personaggio di cui non abbiamo mai un ritratto vero e proprio compiuto un personaggio di cui sappiamo solo due cose era bionda aveva gli occhi azzurri sapete cosa cosa disse Bassani di micol finzi continui quello che sto per leggervi micol non è mai esistita però naturalmente micol è esistita in quanto sono esistito io esisto io è una forma del mio sentimento è una parte di me ecco la stessa cosa si potrebbe dire specularmente per ferrara ferrara è esistita certo però non è mai esistita in fondo se non come una forma del mio sentimento se non come una parte di me come macondo come crosby come hold come la contea di falkner ed ecco allora ciò che rappresenta Bassani ancora per noi in italia e per il mondo non so se lo sapete ma Bassani uno degli autori italiani uno dei nostri autori più letti più tradotti nel mondo letti da persone che non hanno mai visto ferrara che mai la vedranno che potrebbero tranquillamente immaginare che si tratti di un luogo immaginario cos'è Bassani Bassani è un meraviglioso narratore complesso profondo ambiguo come ogni grande narratore ma Bassani è anche una lucidissima coscienza storica Bassani è parte della nostra memoria civile e qui mi viene in mente non posso non citarla la poesia che se ne sta in epigrafe di quel libro straziante terribile e indimenticabile che se questo è un uomo di primo levi quei versi ricordate che questo è stato ecco allora che cosa fa un grande narratore come Bassani un grande narratore come Bassani ridà voce a chi voce non ce l'ha più un grande narratore come Bassani ridà corpo alle ombre ridà vita ai morti e nel loro complessità la loro enigmaticità la loro ambiguità il loro mistero il mistero di micole fin si continui che si affaccia da quel muro ecco perché sono convinta che giorgio Bassani avrebbe annuito ascoltando la frase di lui mal la memoria filtrata dall'immaginazione per arrivare nel profondo dell'anima ed ecco perché voglio pensare che abbia visto quel film e voglio pensare che abbia pianto ripensando la sua giovinezza e a tutto il suo lavoro di narratore ed ecco perché è così importante per ogni narratore ma per ciascuno di noi questa frase arrivederci ragazzi perché questo è la letteratura la letteratura la grande letteratura così come la letteratura di Bassani continua a ripetere anno dopo anno secolo dopo secolo arrivederci ragazzi ci rivedremo presto bene il tempo a nostra disposizione è finito io spero di essere riuscita in poco tempo a dirvi quello che almeno per me era importante dirvi e mi sembra che il modo più giusto per salutarvi nella speranza di rivedervi presto appunto sia arrivederci arrivederci e a presto